Sono Francisco Porcella, sono un surfista e a fianco un altro surfista, però più attore. Sì, più attore. Andrea Montovoli, siamo il team dei surfisti. Se fossi un emoji... Beh, c'è la ingloose, scusami. No, quella con gli occhi tutti strani, con gli... Vabbè, a parte la ingloose, se fossi un emoji... Marco Valdina è figa, mi piace come emoji. La cosa che mi fa schifo è il pipistrello, se dovessi mangiare una cosa... E che adesso me lo faranno trovare sicuramente, però... La mia lamentela sarà stare fermo e non poter continuare. Sono uno che magari inizia a correre. Please, could I have a ride to the next stop? Noi due, entrare nella tua macchina per un passaggio, per favore. Siamo pronti, siamo gazatissimi. Andiamo in attica? Dai, let's go!